In calco, in gel, iperremianti, peel off, specifiche per occhi e labbra, in polvere, con argilla, patch, velli di collagene… Ragazze, questo è il mondo delle maschere. Io mi auguro vivamente che tutte voi abbiate almeno fatto una maschera in vita vostra, ma non lo dico neanche perché voglio darlo per scontato. Bene, tutte queste maschere che vi ho indicato hanno formulazioni e texture diverse, dalle più pratiche, i velli per esempio, i patch, sono dei tessuti non tessuto da applicare e da togliere, sono molto pratiche e molto veloci, ci sono poi le maschere invece da fare e sono in crema o in gel e vanno applicate tipo col pennello o anche con le mani e vanno tenute in posa. Poi ci sono delle maschere che vanno concentrate con il prodotto specifico, anche qui miscelandole e poi vanno applicate sul viso, quindi ce n'è veramente per tutte le tipologie di pelle e anche per un discorso di più o meno praticità, se avete più o meno tempo da spendere. L'importante ragazze è che voi facciate almeno una volta a settimana una maschera per il viso. Io ho fatto un video tempo fa dove vi parlavo di cambiare spesso il principio attivo, qui vale la stessa regola, ogni tanto cambiate la formulazione della maschera, cercate di almeno una volta a settimana, dar da bere e da mangiare alla vostra pelle attraverso questo strumento importantissimo. Esistono poi delle maschere che potrete effettuare solo dalla vostra estetista perché sono ovviamente trattamenti da cabina e qui parliamo di calchi per esempio, di alginati, sono fantastiche, io le adoro soprattutto il calco, crea una sorta di maschera che poi una volta tolta sembra quasi umana perché proprio è un calco che prende le forme dei vostri lineamenti. La particolarità di questa maschera che personalmente faccio puntualmente una volta al mese nel centro estetico dove io vado è che è iperimiante e quindi sotto, tra la maschera e il viso, si crea un calore che quindi crea una vasodidatazione e una stimolazione del microcircolo che è fondamentale. Gli alginati invece sono più gommosi, si tolgono a strappo anche questi, però sono formulazioni in genere professionali che si trovano nei centri estetici più che nelle profumerie o comunque non sono ecco da rivendita domiciliare. Quando siete stanche, che avete il viso grigio, che dovete uscire per una serata romantica con il vostro uomo e non vi vedete per niente belle, la maschera ragazzi vi risolve tutti i problemi del mondo. Voi vi fate la vostra bella maschera, ve la tenete su 15-20 minuti e ritornerete ovviamente riposate con i tratti rilassati, il viso schiarito, le borse drenate e quindi l'importante è che la pelle tornerà rosa, viva. Questo è l'effetto che avrete facendo una maschera, quindi mi raccomando tenete sempre la maschera all'interno del vostro beauty, dei vostri cosmetici.